Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piaciuto potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Roberta Ragusa, me l'avete chiesto in tantissimi su Google Docs e quindi eccomi qui, pronta ad accontentarvi. Il caso di Roberta Ragusa ha diviso nettamente l'opinione pubblica fra innocentisti e colpevolisti. Questa discrepanza deriva dal fatto che c'è un solo e unico dato certo, la mancanza di un corpo che possa essere d'aiuto nella ricostruzione dell'omicidio. Ci troviamo a Gello, una frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. In via Ulisse Dini, al Civico 210, vive la famiglia Logli. Antonio Logli, di 49 anni, Roberta Ragusa, di 44 anni e due figli, Daniele e Alessia, di 16 e 11 anni. La famiglia Logli vive in un complesso di case in cui sono presenti l'abitazione di Antonio e Roberta, l'abitazione dei genitori di Antonio e l'autoscuola futura, attività della famiglia Logli, gestita da Roberta e Antonio, il quale lavora anche come elettricista nella sezione gestione e servizi territoriali del municipio di San Giuliano Terme. La famiglia Logli viene descritta da tutti come perfetta, la famiglia del mulino bianco, insomma. Roberta è una donna aderita alla famiglia, non si concede mai del tempo per sé. La sua vita ruota attorno alla casa e all'autoscuola. Poi ci sono i figli, Daniele e Alessia, e con loro Roberta è una madre davvero amorevole. Li ama immensamente, Daniele e Alessia a loro volta adorano la mamma. Roberta è una donna diretta, non ha paura di scontrarsi con qualcuno che le dia dei problemi. È onesta e sincera, è solita creare delle amicizie e dei rapporti veri e profondi. In molti vogliono bene a Roberta. La situazione economica in cui vive la famiglia di Roberta è discreta anche grazie all'attività che il suocero, Valdemaro Logli, aveva messo in piedi negli anni 60, ossia l'autoscuola. Negli anni 90 l'autoscuola viene ceduta al figlio Antonio che la gestisce insieme a Roberta. Antonio Logli è un uomo rigoroso ma talvolta si mostra ironico, assume spesso un tono disinvolto e scherzoso. Antonio tuttavia è un uomo poco presente nella vita familiare perché è fortemente assorbito dal lavoro. Per Daniele e Alessia è Roberta il genitore di riferimento. Vanno da lei per chiederle il permesso di fare qualcosa, quando occorre, o se sono tristi o se hanno bisogno di confidarsi. Valdemaro Logli è molto fiero di suo figlio Antonio, lo descrive come un ragazzo sveglio, è in grado di fare qualsiasi cosa se si mette di impegno. Dice esplicitamente che è il figliolo che tutti vorrebbero avere. Arriva la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 a San Giuliano Terme, fa molto freddo. Tra mezzanotte e le 6 del mattino, Roberta sparisce. Lo fa senza lasciare traccia? Sì, di tracce Roberta, non ne ha mai lasciate. Ma cos'è accaduto prima che Roberta scomparisse nel nulla? Come ha trascorso quella serata? È venerdì e Roberta esce dall'autoscuola alle 18, orario in cui finisce di lavorare, quindi si dirige verso casa sua che, come vi ricordo, è molto vicina sia all'autoscuola che alla casa dei suoceri. Roberta si reca a casa dei genitori di Antonio, li saluta, dice che si ritira per preparare la cena e augura loro buon appetito e una buona serata. In quel momento, in base a quanto riferiranno i genitori di Antonio, Roberta è tranquilla, non notano nulla di particolare o di preoccupante. La donna prepara la cena per tutti e, come sono soliti fare, i membri della famiglia si mettono a tavola per cenare. In questo momento, come detto all'inizio del video, Roberta ha 44 anni, Antonio ne ha 49, Daniele è il figlio più grande, ha 16 anni, infine Alessa, la figlia più piccola, ne ha 11. La cena trascorre tranquillamente e nessuno nota nulla di strano. Terminato il pasto, Daniele torna in camera sua e si mette al pc. L'ultima volta che Daniele vede la mamma è quando lei entra in camera per dirgli che è tardi, dunque è giunto il momento di andare a letto. Arriviamo alla mattina di sabato 14 gennaio, sono le 6 e 30 quando Antonio si sveglia ma accanto a lui, nel letto matrimoniale, non c'è Roberta. Antonio si guarda intorno, cerca di capire dove potrebbe essere andata la moglie e nota che i vestiti che la donna ha appoggiato sulla sedia la sera prima sono ancora lì. La domanda nasce spontanea, Roberta è uscita in pigiama? Antonio poco dopo si rende conto che anche tutti i suoi oggetti personali sono in casa. Roberta quindi sarebbe uscita di casa in pigiama senza prendere nient'altro, neanche il cellulare. Antonio a questo punto ipotizza che la moglie sia in stato confusionale e decide subito di andarla a cercare, senza mai ritrovarla. Roberta è una donna molto bella anche se negli ultimi anni si è lasciata un po' andare. In verità è infelice, è stressata, non ce la fa più a condurre quella vita. Si lamenta spesso con le sue amiche, è addolorata. Poi ovviamente vi spiegherò il perché. Ma torniamo ai fatti. Antonio vada per ore ma non riesce a trovare Roberta, quindi si rivolge alle autorità competenti per fare una denuncia di scomparsa. Sono le 13 e 30. Antonio sostiene che Roberta è sparita tra mezzanotte e le 6 e 30 del mattino, quindi nell'asso di tempo in cui lui dormiva. Inoltre ritiene che Roberta è uscita di casa ancora con il pigiama rosa addosso. Antonio dice ai carabinieri. Il motivo di questo gesto non riesco a spiegarmelo, posso solo dire che nei giorni precedenti, precisamente martedì 10 gennaio, mentre io e lei eravamo intenti a sistemare dei cartoni in soffitta, io nel perdere l'equilibrio sono caduto addosso a mia moglie facendole sbattere la testa. Antonio sostiene che questo incidente aveva provocato in Roberta dei danni cerebrali per cui subiva vuote di memoria e stati confusionali. Quindi Antonio presume che Roberta si sia allontanata da casa in preda a uno stato confusionale. Nel frattempo i carabinieri iniziano a perlustrare diverse case nella zona. Dopo ore di ricerca curate interne ed esterne alla casa, ma senza risultati, predispongono delle battute di ricerca in tutte le zone limitrofe. Sul posto arrivano anche le unità cinofile e la protezione civile. Stanno cercando una donna con addosso un pigiama rosa e in stato confusionale. Fin da subito la scomparsa di Roberta appare a tutti molto strana, anche sulla base della denuncia di Antonio Logli. I carabinieri rimangono perplessi ascoltando Antonio, specialmente quando spiega la motivazione per cui, secondo il suo parere, Roberta si è allontanata da casa. Infatti Antonio Logli, non sapendo attribuire una motivazione concreta all'allontanamento della moglie, insiste su quell'unico elemento di disturbo, ossia la caduta di Roberta e il conseguente colpo alla nuca. Ovviamente ci sono molti dubbi, in molti pensano, ma è credibile che una persona vada via di casa seguito dei danni di una caduta risalente a tre giorni prima? In effetti andando a fondo della questione emerge che Roberta, a causa di quella caduta, si era fatta male a una spalla e aveva battuto la testa. Ma il suo medico di famiglia l'aveva visitata, rassicurandola sul fatto che non fosse nulla di grave. Quindi mi chiedo come una botta alla testa, neanche così grave, possa indurre una donna a uscire di casa vestita soltanto con il pigiama a gennaio. Insieme alle ricerche si procede anche con gli appelli in tv. L'appello va in onda tramite la trasmissione Chi l'ha visto, che si è occupata parecchio del caso di Roberta Ragusa. Antonio Logli, suo marito, dice testuali parole Roberta, se ci vedi e tu avessi perso la memoria, spero tu possa riacquistarla e tornare. Chiamaci, vai dalla polizia o dai carabinieri. Ora, io quando ho sentito Antonio Logli fare questo appello, mi sono messa le mani nei capelli. Antonio prima racconta che Roberta era in uno stato confusionale a causa di una botta alla testa, ma il suo medico di base dice invece che al massimo Roberta accusava un dolore passeggero al capo. Poi, dopo, Antonio parla ai microfoni di chi l'ha visto per dire in breve, Roberta, sei perso la memoria? Torna a casa! Chiama! Ma, scusate, ma se Roberta avesse davvero perso la memoria, come mai potrebbe tornare a casa o chiamare a casa? Ma soprattutto, dove diamine è finita, è possibile che nessuno l'abbia accolta, è possibile che nessuno in cui si è imbattuta le abbia fatto delle domande. Intanto le ricerche continuano, ma c'è un altro problema. Le foto che hanno scelto di diffondere per l'individuazione di Roberta o per fare altre segnalazioni in merito alla sua scomparsa non è molto attinente all'aspetto di Roberta in quel momento. La foto l'ha scelta suo figlio, che ha semplicemente pensato di condividere con il pubblico un'immagine della mamma quando era ancora felice e sorridente, però quella foto risale a circa 8 o 9 anni prima. Dunque, a causa di ciò, si verificano diversi avvistamenti che non si rivelano veritieri. Tutti gli avvistamenti riguardano donne somiglianti a Roberta, ma mai lei. Per Roberta si mobilita tutta Gello, anzi tutta San Giuliano. Viene cercata davvero ovunque. Nei fossi, nei boschi, in montagna, viene dragato il fiume, viene cercata nei pozzi d'acqua, nei dirupi, ma nessuna di queste ricerche conduce a un risvolto positivo. Poi si fanno avanti alcune persone che conoscevano molto bene Roberta. Tutte dicono la stessa cosa. Non se ne sarebbe mai andata via abbandonando i propri figli. Mai. Infatti è proprio Roberta a raccontare a un'amica che secondo lei non c'è dolore più grande per un figlio di perdere la propria madre. A detta delle amiche, se la donna avesse avuto necessità di allontanarsi, l'avrebbe semplicemente detto. Gli inquirenti, dopo settimane di ricerca, devono per forza ipotizzare uno scenario diverso rispetto a quello di un allontanamento volontario o di un allontanamento causato da un'amnesia. Quello che non convince la procura è che la donna sarebbe uscita di casa dopo la mezzanotte, quando la temperatura era al di sotto dello zero. Per di più, indossava soltanto un pigiama. Non ha preso un cappotto, un trolley con qualche cambio d'abiti, dei soldi, il cellulare, i documenti. Nei numerosi sopralluoghi in casa l'ogli, peraltro, vengono rinvenuti degli appunti, delle agende e dei post-it. Così si evince che Roberta aveva in programma diverse cose da fare nei giorni successivi, come, ad esempio, delle visite mediche. Gli impegni annotati sembrano incompatibili con un allontanamento volontario, che ormai per gli inquirenti è davvero la pista più improbabile. Così gli inquirenti sollevano la lente di ingrandimento sulla vita di Roberta, nella convinzione che nel suo passato possa esserci la chiave di questa misteriosa scomparsa. Dalle indagini emerge che la donna stava vivendo una forte crisi, una confusione esistenziale. Roberta, infatti, aveva confidato alle amiche di non sentirsi più importante. Si sentiva inutile. Inoltre, aveva la costante sensazione di essere osservata e di non sentirsi mai realmente a casa. Parte del problema erano i suoceri che imponevano con arroganza le loro idee, anche se la casa in cui viveva Roberta è sua e di suo marito. Il punto è che quella casa i genitori di Antonio gliel'hanno regalata, quindi la coppia non può portare neanche una minima modifica alla dimora senza incorrere in discussioni e litigi infiniti. Roberta, il loro compagnia, non si sentiva a suo agio di questa situazione con i suoceri, ovviamente, ne risentiva anche il suo matrimonio. A questo punto, viene ritrovata una lettera che riesce a chiarire il rapporto che c'era tra Roberta e Antonio. A scrivere la lettera è Roberta per suo marito. A mio avviso, il contenuto è davvero struggente. A me sembra che tramite queste parole Roberta stesse tentando di comunicargli quanto fosse stanca, stressata, rassegnata. Questa lettera rivela tutta la frustrazione di Roberta del non essere più importante per Antonio. Ora, ve la leggo immediatamente. Mi sembra davvero strano trovarmi nella necessità di parlarti con parole scritte. A voce non è più possibile ormai, dato che quando io entro nel letto, tu già dormi e quando tu ti alzi, io dormo ancora. Durante il giorno nel poco tempo che sei a casa i bambini ti reclamano. La pasta scuoce, il telefono squilla. Non c'è mai tempo, scivola, scorre via come sabbia tra le dita questo tempo. Non c'è tempo per parlare, per ascoltare, per capire. Non c'è tempo per sentire i mutamenti del cuore. Non c'è tempo per cogliere l'essenza, l'attimo della vita. Tu non ti accorgi che io vivo la vita fuori dalla mia vita e che i miei occhi guardano occhi che non guardano i miei. Coltivo le mie due perle che grazie al cielo sono sempre più lucenti. Il resto è tutto piatto, grigio, frustrante. Sai, a volte mi capita di aprire i cassetti della memoria e mi sorprendo nel constatare quanto è diversa la persona che sono diventata dalla persona che ero e che sognavo di divenire. Sognare negli anni è sempre più difficile, non trovi? E i sogni di chi, come me, sogna di rado sono sempre più utopistici. Allora ti aggrappi alle cose certe, agli affetti, alla famiglia, hai notato come i figli piccoli siano accentratori di amore? Lo pretendono, lo assorbono e ne fanno indigestione della più bella forma di amore perché è incondizionato. Già, tu glielo dai senza chiedere nulla in cambio, è meraviglioso poterli amare e poter crescere con loro. Ma noi? Cosa resta di noi? Viaggiamo su binari paralleli, ci parliamo senza dare risposte e non ci diamo reciprocamente ciò che vorremmo. Siamo vicendevolmente delusi, caduti, talmente nell'abitudine che sembriamo già vecchi. Sono stanca, 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 stanca dei battivecchi sui soliti quotidiani argomenti. Stufa di chiederti quello che qualsiasi compagno con un po' di buonsenso capirebbe al volo, esasperata dal tuo modo di rispondere sempre fingendo di non capire o travisando la realtà dei fatti. Non ne posso più del modo in cui ti comporti con tutti noi, quasi sempre inopportuno, inadeguato, irritante. Se tu avessi anche solo un briciolo di sensibilità ti chiederesti ma cosa ho dato, cosa sto dando di me stesso alla mia compagna? Mi occupo di ciò che pensa, prova, desidera? Vorrei essere ogni tanto al centro della tua attenzione, sapere che ti dispiace di vedermi stanca, spossata, esausta, di vedere che privo me stessa di tutte le cose personali. Ma tu vivi la tua vita, coltivi i tuoi interessi fuori di qui, fuori da me. Non ti ricordi mai nulla, non un fiore neanche quando è nato il primo figlio e sarebbe stato così anche alla nascita della bambina se non te lo avesse suggerito un'altra persona. Anche oggi, per esempio, non ti sei ricordato del nostro anniversario. L'ennesima delusione. So che tu non ami leggere, perciò lo fermo questo fiume di parole che sicuramente ti lasceranno indenne intonso nel tuo presuntuoso cinismo nell'alto opinione che hai di te. Non importa più. Baci, Roberta. C'è una certezza di questa situazione. Roberta non lascia trapelare nulla, anche se nei mesi prima della scomparsa pare che la donna avesse confidato alla zia materna di volersi allontanare, di voler andare via. La domanda sorge spontanea. Queste confidenze sono frutto di un momento di rabbia di Roberta oppure sono ponderate? A mio avviso se Roberta avesse voluto davvero andarsene avrebbe preso con sé i figli. Li amava troppo per non portarle con sé. La vita di Roberta ruotava totalmente attorno ai figli. La vita di Antonio è invece un po' meno e dalla lettera di Roberta lo si capisce chiaramente, soprattutto da queste parole. Ma tu vivi la tua vita, coltivi i tuoi interessi fuori di qui, fuori da me. E qui già a mio parere Roberta lo sapeva che Antonio la tradiva. Ma ci torneremo. Non ti ricordi mai nulla, non un fiore, neanche quando è nato il primo figlio. E sarebbe stato così anche alla nascita della bambina se non te lo avesse suggerito un'altra persona. Anche oggi, per esempio, non ti sei ricordato del nostro anniversario. L'ennesima delusione. Resta comunque il fatto che se la donna avesse davvero deciso di scappare, di certo non l'avrebbe fatto vestita solo con un pigiama senza recuperare i suoi effetti personali. Quindi, risulta il quanto impossibile che Roberta se ne sia andata di sua spontanea volontà. È ormai passato un mese dalla scomparsa di Roberta. Siamo a febbraio 2012 e la donna ancora non si trova. Non c'è nessuna traccia. Non c'è assolutamente niente. La polizia a questo punto chiama come testimoni tutte le persone che erano vicine a Roberta. Il fine è riuscire a comprendere quali fossero le dinamiche della sua vita. Chi le stava vicino e chi invece le dava dei problemi. Durante questi interrogatori la migliore amica di Roberta sottolinea che la donna ormai da un po' di tempo non si sentiva più a suo agio in casa sua. Prima di tutto perché si sentiva poco apprezzata da suo marito ma soprattutto perché si sentiva osservata e questa cosa ve l'ho già accennata. Non vi ho detto però che Roberta si sentiva osservata o spiata dai suoceri. Infatti Valdemaro Logli il padre di Antonio spiega che Roberta quando era con loro sembrava sempre in soggezione. Inoltre nonostante gli anni di reciproca conoscenza quando passava da loro per tornare a casa bussava sempre alla porta anche se Valdemaro le diceva di non bussare e di aprire semplicemente. L'uomo aggiunge che Roberta aveva un atteggiamento molto dimesso quando aveva a che fare con lui. È quindi evidente che Roberta non avesse un rapporto idilliaco con i suoceri principalmente perché la osservavano di continuo. Appena metteva il naso fuori di casa loro erano alla finestra a controllare ogni singola mossa di Roberta. Forse le parlavano anche alle spalle la criticavano quindi Roberta sentendosi giudicata si è sempre più chiusa in se stessa. Di queste situazioni Roberta parlava con le sue amiche ma evitava di discuterne in casa perché voleva mantenere un'armonia familiare e integra di modo che i suoi figli non soffrissero. Il problema è che in questo modo la persona che soffriva era sempre comunque Roberta. Roberta che faceva finta di niente e che chiudeva un occhio e poi anche l'altro per mantenere unita la famiglia. Antonio Logli in ogni interrogatorio descrive la sua famiglia come perfetta. Ha due splendidi figli una bella moglie una bella casa una buona situazione economica non ha vizi la sua vita si divide tra casa e famiglia ma soprattutto non ha nessuna relazione extracognugale. Ma siamo sicuri che sia vero? A sentire le amiche di Roberta no affatto forse in precedenza la coppia era affiatata ma nell'ultimo anno la donna nutriva il forte sospetto che suo marito la stesse tradendo. Infatti ecco che emerge la verità Antonio Logli al momento della scomparsa della moglie intratteneva una relazione extracognugale con una donna molto più giovane di lui una sua dipendente ossia Sara Calzolaio è proprio la donna il 16 gennaio 2012 a rivelare agli inquirenti che ha una relazione con Antonio che va avanti da ben 8 anni aggiunge che i due erano soliti comunicare tramite due cellulari che usavano solo per parlare fra di loro questi telefoni erano stati buttati in due cassonetti in provincia di Pisa su richiesta di Antonio Sara aveva rotto entrambe le sim dei cellulari e ripulito il computer da tutte le email che si erano scambiati quindi Antonio aveva mentito agli inquirenti aveva affermato di non avere nessuna relazione extracognugale ma perché mentire? Antonio spiega che l'ha fatto per proteggere la sua famiglia dai gossip che sarebbe scaturito da una simile notizia gli inquirenti invece interpretano la bugia di Antonio in un modo ben diverso ossia non suggerire agli investigatori un eventuale movente per il possibile omicidio di Roberta quando la notizia approda sui giornali la figura di Antonio Logli cambia gli occhi della popolazione fortunatamente oserei dire come se Sara con la sua rivelazione avesse sollevato un velo Antonio smette di essere un marito disperato per la scomparsa della moglie e diventa un uomo meschino che tradiva la sua compagna e aveva mentito agli inquirenti ma adesso parliamo di Sara Calzolaio l'amante di Antonio Sara e Antonio si conoscono nel 2004 quando la ragazza frequentava le lezioni di scuola guida quando la loro relazione inizia Sara ha 21 anni mentre Antonio ne ha 40 la relazione è travolgente sono innamoratissimi e a Sara la differenza d'età non condiziona minimamente poco dopo l'inizio della relazione Sara comincia a lavorare come babysitter di Daniele e Alessa i figli di Antonio e Roberta successivamente viene assunta all'autoscuola futura come segretaria questo vuol dire che Sara e Roberta lavoravano insieme Sara però è sicura che Roberta non sapeva che fosse lei l'amante di Antonio certo aveva dei dubbi sulla sua fedeltà ma se avesse saputo che stava lavorando insieme all'amante del marito l'avrebbe sicuramente affrontata questa situazione però a quanto pare viene smentita dalle amiche di Roberta che ricordano quanto la loro amica specialmente nell'ultimo periodo sospettasse dei due Antonio infatti ad ogni trasferta e ad ogni appuntamento di lavoro portava sempre Sara con sé Roberta aveva notato che tra i due c'era una grande intesa nonostante fosse sospettosa non poteva certo immaginare che la loro relazione andasse avanti da ben otto anni quando Sara rivela gli inquirenti della relazione con Antonio l'opinione pubblica le si rivolta contro Sara è una rovina famiglie dovrebbe nascondersi e non farsi più vedere molti arrivano addirittura a minacciarla di morte ora vorrei fare una pausa perché quando succedono queste cose io resto sempre un po' perplessa è vero? Sara non avrebbe dovuto accettare di iniziare una relazione con un uomo sposato sono d'accordo questo è pacifico ma quell'uomo sposato ha due figli oltre a una moglie quindi a mio avviso l'opinione pubblica avrebbe dovuto rivoltarsi soprattutto contro Antonio era lui quello impegnato è lui che ha messo al mondo due figli con Roberta dunque Sara avrebbe dovuto dire di no ad Antonio? assolutamente sì ma Antonio per primo avrebbe dovuto dirsi di no da solo evitare di provarci con Sara di portare avanti una relazione extracognugale così lunga agli inquirenti la situazione sembra sospetta Antonio non solo aveva nascosto la relazione con Sara ma cercava anche di cancellare le prove di tale relazione questo è il comportamento di un uomo che non ha nulla da nascondere o da temere? secondo me no a questo punto gli inquirenti abbandonano qualsiasi pista per concentrarsi su Antonio Logli che viene iscritto nel registro degli indagati il 29 febbraio ma quando i RIS vanno a compiere i rilievi a casa Logli non trovano assolutamente nulla neanche una misera traccia di sangue gli inquirenti indagano anche tra la gente del paese chiedono che tipo fosse Antonio tutti rispondono che a loro Antonio non piace non è mai piaciuto dicono che Antonio è una persona antipatica molto riservata è sempre stato per i fatti suoi non è incline a fare parte di un gruppo non ha amici è un tipo che si arrabbia facilmente e provoca litigi per un non nulla insomma Antonio non ha una buona reputazione nel paese l'uomo a questo punto inizia a essere convocato sempre più spesso in procura i PM in una di queste convocazioni gli chiedono perché avesse fatto la denuncia solo alle 13.30 quando si era accorto che Roberta era scomparsa alle 6.30 del mattino Antonio spiega che prima delle 13.30 stava cercando proprio Roberta i PM quindi gli chiedono dove l'avesse cercata Antonio spiega che aveva iniziato a girare nei dintorni di casa con la sua macchina insieme a un suo amico di nome Meini tra i posti in cui sono stati c'è il cimitero di Gello dove sono sepolti i genitori di Roberta Antonio aveva pensato che potesse essere andata lì in un momento di fragilità al cimitero di Roberta non c'è traccia ma quando sono risaliti in macchina non sono più riusciti a metterla in moto hanno chiamato il padre di Antonio Valdemaro per farsi venire a prendere quindi la questione della macchina che non parte viene interpretata dagli inquirenti come una mossa per nascondere l'automobile con la quale in realtà avrebbero trasportato il corpo senza vita di Roberta il punto è che la macchina viene analizzata all'interno della vettura viene trovato anche un giubbotto leggero di Antonio dove c'è il DNA di Roberta ma è normale che il DNA di Roberta possa trovarsi sul giubbotto di suo marito però non si riscontra alcuna traccia di violenza mentre interrogano Antonio i PM si rendono conto che lui presenta sul corpo dei piccoli graffi l'uomo riferisce che se li ha procurati nel suo giardino urtando contro dei rami alcuni diranno che quei graffi non erano presenti su Antonio nei giorni precedenti alla scomparsa di Roberta ma il giorno della sua scomparsa ecco che appaiono quei graffi però sono troppo piccoli e sottili per ipotizzare che egli li abbia procurati Roberta magari durante una litigata a questo punto Antonio racconta la sua versione dei fatti come ha passato l'ultima serata nella quale ha visto Roberta Antonio spiega che ha aiutato sua moglie a sparecchiare dopo cena più o meno alle 23 poi dice ai suoi figli di andare a letto perché è tardi si fanno le 23 e 30 Antonio sale in soffitta per risistemare alcune cose ma questa si rivela una bugia gigantesca ossia Antonio quando andava in soffitta ne approfittava per chiamare la sua amante intanto Roberta rimane al piano di sotto in salotto verso mezzanotte lui sostiene di essere sceso di aver visto Roberta fare la lista della spesa quindi la saluta e va a letto nel letto matrimoniale però Antonio trova Alessia sua figlia quindi la prende in braccio per riportarla nella sua stanza dopodiché si corica e si addormenta stando alla sua versione a mezzanotte Antonio sta già dormendo si risveglia soltanto la mattina successiva alle 6 e 30 nota che non c'è Roberta che dorme accanto a lui quindi sostiene che o la donna non è mai andata a letto oppure ci è andata ma poi è scappata in ogni caso Antonio sottolinea che non ha idea di che fine abbia fatto questa è la versione di Antonio che neanche sta in piedi perché emergono dei tabulati telefonici che lo contraddicono i tabulati telefonici dimostrano che in realtà lui a mezzanotte non dormiva perché dalle 23 e 8 fino a mezzanotte e 18 era il telefono con Sara la sua amante a dirla tutta le chiamate sono tre e non una sola la prima telefonata parte alle 23 e 08 e si conclude alle 23 e 50 la seconda parte alle 23 e 56 e si conclude a mezzanotte e 16 la terza parte a mezzanotte e 17 e dura pochi secondi 28 per la precisione gli inquirenti si concentrano sulla durata dell'ultima telefonata si chiedono perché abbia chiamato Sara per parlarle solo a pochi secondi qualcosa o qualcuno per caso l'ha interrotto magari Roberta gli inquirenti ipotizzano che l'ultima telefonata sia stata interrotta così bruscamente perché in effetti Roberta è salita in soffitta siccome si era accorta che Antonio nascondeva qualcosa magari aveva scoperto che la donna con cui lui l'altra diva era proprio Sara quindi l'ha affrontato Sara rispetta quelle telefonate da un'altra versione spiegando che loro erano soliti sentirsi sempre prima di andare a dormire ma talvolta cadeva la linea quindi ci sono state più telefonate per questo motivo e fin qui tutto bene l'ultima telefonata Sara la spiega così dato che Antonio è tanto dolce e romantico l'ha richiamata per pochi secondi solo per dirle ti amo e riattaccare il telefono gli inquirenti ascoltano la versione di Sara ma pensano che la loro ricostruzione abbia molto più senso e mi trovano d'accordo nel frattempo tutte le utenze di Sara Calzolaio e di Antonio Logli vengono messe sotto controllo per mesi gli inquirenti registreranno le conversazioni tra i due amanti nella speranza di trovare qualcosa per dare una svolta alle indagini in una intercettazione del 24 giugno 2012 si registra una conversazione tra Antonio e Sara che si svolge esattamente in questo modo Antonio dice come ti ripeto uno deve fare quello che si sente Sara ribatte va bene Antonio risponde perché te non hai raccontato le bugie giuste hai raccontato la verità Sara risponde non glielo dovevo dire eh no eh io glielo dovevo dire Antonio ribatte te c'hai questo difetto grosso che dici la verità e invece la verità non va detta e qui me viene da dire Antonio non sai proprio nascondere le tue tracce e grazie a Dio che non le sai nascondere poi vedremo anche il perché è chiaro che in questa intercettazione Antonio rimprovera Sara per aver rivelato il PM della loro storia così gli inquirenti audio dopo audio iniziano a delineare la vera figura di Antonio Logli un uomo che preferisce lei menzogna la verità un uomo che dice alla sua amante che ha un grosso difetto ossia dire la verità quando la verità non va detta chiaramente il cerchio si stringe sempre di più attorno ad Antonio Logli ma c'è un limite non da poco manca il corpo di Roberta viene cercata per mesi a lungo ma Roberta non viene mai trovata né viva né morta però riflettendoci anche l'assenza di un corpo può dire molto si può escludere il suicidio non si tratta di un incidente le opzioni quindi sono due o l'allontanamento volontario oppure l'omicidio e ormai le forze dell'ordine sono più propense a pensare a un omicidio arriviamo al 10 ottobre 2012 quando spunta fuori Loris Gozzi quello che verrà definito il super testimone l'accusatore di Antonio Logli Loris è un giostraio di etnia sinti vive a Gello a meno di un chilometro dall'abitazione dei Logli è Loris che per la prima volta colloca Antonio Logli fuori dalla sua abitazione ben oltre la mezzanotte smettendo di fatto la versione ufficiale di Antonio e cioè che fosse andato a dormire proprio intorno a mezzanotte l'uomo racconta che quella sera era tornato a casa tardi insieme alla moglie e aveva notato una macchina bianca posteggiata a bordo strada vicino a casa dei Logli in quella macchina c'era Antonio Loris lo ha visto bene perché poco prima di passare accanto alla macchina aveva acceso gli abbaglianti Loris ne è sicuro nella macchina c'era Antonio Logli ed era da solo lo ripeterà sempre senza mai cambiare versione quindi Loris era tornato a casa con la moglie ma dopo circa mezz'ora era uscito di nuovo per far fare i bisogni al suo cane a distanza di circa 80 metri aveva visto due persone che stavano litigando un uomo e una donna non sa se quelli erano Antonio e Roberta ma è sicuro che fossero uno e una donna dalle voci Loris a questo punto aveva provato ad avvicinarsi a queste persone che litigavano l'uomo strattonava la donna all'interno della macchina già parcheggiata sul lato della strada poi se ne va Loris la mattina dopo il 14 gennaio aveva sentito bussare alla porta aveva aperto e si era ritrovato davanti Antonio Logli che gli comunicava la scomparsa di sua moglie e gli chiedeva se per caso avesse visto la donna passare da lì la notte precedente lascia perplessi il fatto che Antonio Logli abbia bussato soltanto alla sua porta infatti non ha chiesto a nessun altro abitante della zona per gli inquirenti è chiaro Antonio sapeva che la sera prima era stato visto da Loris mentre litigava con Roberta ecco perché ha chiesto proprio a lui e solo a lui la difesa di Antonio Logli punta a screditare il teste a considerarlo inattendibile si dirà infatti che la sua testimonianza resa otto mesi dopo la scomparsa di Roberta sia falsata dalle notizie diffuse dai giornali e dalla tv in verità Loris non si era fatto avanti prima perché ha qualche precedente penale e non voleva finire in nessun guaio inattendibile o meno a quanto pare la testimonianza di Loris rappresenta l'ultimo tassello per chiarire questo giallo anche se a mio avviso è gravissimo che una testimonianza così importante sia stata resa otto mesi dopo l'accaduto ma dobbiamo per forza aggiungere anche l'enorme stupidaggine che fa di nuovo Antonio Logli il 25 gennaio 2013 due giorni dopo che i media avevano rilasciato la notizia della testimonianza di Loris Antonio si dirige sulla strada in cui Loris sostiene di averle visti insieme ad un suo amico per fare dei test di visibilità cioè dice al suo amico di mettersi dove era Loris lui va dove aveva parcheggiato la macchina e poi inizia ad urlare o a muoversi in modo strano chiedendo al suo amico se per caso lo vedeva chiaramente e lo sentiva chiaramente e niente quando Gesù distribuiva la furbizia Antonio Logli evidentemente stava dormendo perché altrimenti io non me lo spiego davvero a questo punto emerge un'ipotesi su come Antonio avrebbe potuto far sparire il corpo di Roberta ossia nel forno crematorio del cimitero di Gello perché Antonio aveva le chiavi sia del cimitero sia del forno crematorio dato che lavorava come elettricista anche nel cimitero quindi Antonio Logli potrebbe aver trasportato Roberta ormai senza vita fino al cimitero per poi farla sparire tramite il forno crematorio inoltre nel 2016 si suicida un uomo nella zona in cui abitavano Roberta Raguse e Antonio Logli buttandosi sotto un treno l'uomo lavorava proprio nel cimitero di Gello da quando era scomparsa Roberta le persone attorno a lui riferiscono che aveva iniziato a comportarsi in modo strano era molto turbato ansioso e preoccupato quindi si pensa che il suo suicidio fosse dovuto al senso di colpa per aver fatto sparire il corpo di Roberta l'uomo era una persona con problemi di dipendenza quindi si suppone che sia stato pagato da Antonio per eliminare il cadavere di Roberta magari aveva qualche debito da saldare per l'assunzione di certe sostanze e Antonio gli aveva dato una mano a saldarli quei debiti inoltre vengono recuperate delle bollette dall'energia elettrica ed emerge che anche se il forno crematorio del cimitero nel periodo in cui è scomparsa Roberta era in disuso proprio la notte della sua sparizione era stato azionato il problema è che non ci sono tracce nel forno crematorio è passato troppo tempo anche se quest'ipotesi a mio avviso è senz'altro verosimile a dicembre del 2014 parte il processo contro Antonio Logli la difesa sceglie il rito abbreviato e ovviamente il processo è di natura indiziaria perché di prove non ce ne sono ma di indizi sì questi indizi messi tutti insieme potrebbero portare il giudice a ritenere che Antonio Logli sia il colpevole in tutti e tre i gradi di giudizio Antonio Logli non parla né in aula né con i giornalisti nelle quasi 50 pagine di sentenza la Cassazione tratteggia la personalità di Roberta molto legata ai figli ed il contesto di crisi familiare in cui la vicenda si è inserita ha pesato la relazione nota a Roberta di Antonio con Sara Calzolaio questa amica collaboratrice della vittima secondo i giudici Roberta pensava alla separazione dal marito una scelta che avrebbe peggiorato la situazione patrimoniale di Antonio in questo quadro è stato ricostruito quanto accaduto nella notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012 mentre la moglie stava compiendo ordinarie attività domestiche prima di coricarsi avendo già indossato l'abbigliamento da notte descritto dalla figlia Alessia Antonio si era ritirato in soffitta ed era stato impegnato in tre conversazioni con la Calzolaio l'ultima delle quali iniziata alle ore mezzanotte 17 si era interrotta bruscamente un fatto che sarebbe legato alla successiva uscita dall'abitazione di Roberta lei aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione senza indossare altri indumenti né prelevare oggetti di qualsiasi tipo con la Cassazione che conferma l'ipotesi secondo cui l'unica spiegazione possibile ragionevole è che fosse stata indotta a ciò da una forte emozione da un forte timore per la propria incolumità dopo aver avuto la certezza spiandolo che il marito avesse ancora una relazione con un amante e che Costei fosse proprio l'amica e collaboratrice Sara Calzolaio a quel punto Antonio Logli accortosi della fuga della moglie per i campi senza essersi coricato a letto era uscito a bordo della sua Ford e si era posizionato lungo la via Gigli il luogo in cui aveva ritenuto di poterla rintracciare Ove però era stato visto e riconosciuto dai coniugi Gozi Gombi nonostante il tentativo di nascondere il volto con la mano consapevole di ciò aveva fatto rientro a casa distante da quel punto appena 700 metri Ove aveva lasciato in tutta fretta l'auto sul vialetto e prelevato l'utilitaria Citroen C3 della moglie e si era recato nuovamente in via Gigli dove aveva effettivamente incontrato Roberta tanto che il cane molecolare aveva fiutato traccia della sua presenza infine la lite con la definitiva sparizione di Roberta la Cassazione però è costretta a lasciare il vuoto sulle modalità e come noto nemmeno il cadavere è stato mai ritrovato Antonio Logli aveva litigato con lei e l'aveva costretta a forza salire sull'auto conclude la sentenza venendo visto e sentito da Loris Gozzi mentre la Gombe ossia sua moglie aveva percepito le grida dalla sua abitazione senza poter comprendere da chi provenissero abbandonato il luogo in tutta fretta l'avrebbe quindi condotta in un altro luogo rimasto ignoto per poi sopprimerla con modalità anch'esse non potutesi accertare e farne sparire definitivamente almeno se non ad ora il corpo il tribunale alla fine giunge a questa conclusione il movente dell'omicidio è che lui voleva il divorzio ma non voleva sostenere la spesa derivante dall'attuazione di questa pratica le prove contro di lui sono la testimonianza di Loris Gozzi e le bugie che Antonio ha detto più volte fin dall'inizio e infine per il test di visibilità che ha fatto con il suo amico a seguito della testimonianza di Loris Gozzi così nel 2019 Antonio Logli viene condannato a vent'anni di reclusione dal tribunale di Pisa Antonio si è sempre professato innocente i suoi figli sono convinti della sua innocenza ancora oggi così come i suoi genitori detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso perché è stato molto mediatico effettivamente se ne è occupato a lungo chi l'ha visto e quindi insomma penso che molti di voi si siano fatti un'idea scrivetela pure qui sotto come al solito ci becchiamo nei commenti sono molto curiosa di sapere le vostre idee io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.